Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per riabbonate ad Amazon Prime per il mese di aprile 2022. Prima di iniziare però vi ricordiamo che avendo Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch. Trovate il link in descrizione. Questo mese avremo ben 8 giochi. Iniziamo subito. Il primo è Test 4 Oblivion, gioco precedente a Skyrim nella sua edizione più completa con tutti i DLC. Per saperne di più sul gioco vi ricordiamo che sul canale è già presente un gameplay. Secondo titolo è Monkey Island 2, nella versione special, ovvero remaster ed remake dell'originale del 1991. Avventura grafica a punto e clic che ci mette nuovamente nei panni di Guybrush Tripwood. Terzo gioco, Nanotail Typing Chronicles. Avventura fantasy basata sulla digitazione, ovvero avanzeremo nel gioco digitando parole su tastiera, con la difficoltà che aumenta in base alla velocità con cui digitiamo. Controlleremo Rosalinda, un archivista che riesce a comprendere la magia delle parole. Quarto titolo, Guild of Ascension. GDR tattico con elementi roguelite che mescola il combattimento a turni con azioni in tempo reale. Come quinto gioco abbiamo turnip boy con meets text evasion. Avventura in pixel art dove nei panni di una rapa dovremmo risolvere rompicapi, sconfiggere bestie e evadere le tasse. Sesto gioco del mese, Galaxy of Pen and Paper. GDR a turni che segue l'avventura di un gruppo di giocatori del 1999. Dovremmo creare il nostro game master e seguirli nelle loro quest immaginarie. Settimo e penultimo gioco, House of Mill e Dolls, Family Secrets. Avventura grafica dove controlleremo Kate Reads, scrittrice di storia dell'orrore sui fantasmi che viene invitata in una casa per risolvere misteri. Infine come ultimo gioco abbiamo Plants vs. Zombie Battle for Negrville. Farà tutto in terza persona, giocabile anche in multigiocatore locale e online e ultimo capitolo della serie Plants vs. Zombies. Per saperne di più trovate già un gameplay sul canale. Posso ne pensare di questi giochi gratuiti per il mese di aprile 2022? Ti re soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima! Ciao! Ciao!